Da che mondo è mondo la squadra si costruisce in base al candidato. Qui si è tentato di fare il contrario. Ore decisive all'interno del carroccio con le prove di chiarificazione che si avranno prima di lunedì nel corso del vertice federale a Milano, sabato, con la manifestazione della Lega a Roma. Per vedere i presenti ma soprattutto gli assenti, in una parola, Tosi ci sarà? Io in questi anni ho sempre governato con gli uomini del movimento, puntualizza il governatore Luca Zaia replicando alle liste tosiane. Peraltro vorrei anche ricordare che non ho mai fatto una questione di chiedere i nomi in liste. La dimostrazione è che in questi anni ho sempre governato con gli uomini del movimento. La verità è un'altra, la verità è che se tu deliberi tutta una serie di aspetti, le liste, il numero di liste, come devono essere composte, i mandati, non mandati o quant'altro, a prescindere dal pensiero del candidato, a me sembra logico che vuoi fare una forzatura contro il candidato. Quindi l'attesa per lunedì e il pensiero per i Veneti. Lunedì assolutamente, deve essere assolutamente chiarificatoria e decisiva, poi sarà bene che tutte le posizioni vengano chiarite, poi si capirà come se ne verrà fuori. Però è tanto vero che non c'è più tempo da perdere. Lunedì c'è il federale, ho visto che è stato convocato il federale, penso che essendo tre giorni prima del nazionale si discuterà di tutta la partita. Poi questo riguarda direttamente le segreterie e ne prendo atto, io sto scrivendo il programma e sto andando avanti pancia a terra, visto e considerato che immagino che i Veneti non siano tanto ammagliati da queste discussioni su quante liste ci saranno, chi bisogna mettere in lista o quant'altro. Dalle beghe in casa Carroccio a quelle con il prefetto Cuttaia, responsabile per tutto il Veneto dell'accoglienza dei profughi per il quale gli immigrati portano lavoro. Vorrei chiedere al prefetto dove ha visto tutto il lavoro, visto e considerato che abbiamo 42.000 immigrati residenti in Veneto senza lavoro. Quindi che abbiano un grande valore come fonte di lavoro, bisognerebbe avere anche il lavoro, per cui rispedisco al mittente questa considerazione. Grazie.